Noi abbiamo detto ieri che era una partita sempre difficile, una partita che non bisognava dimenticare che è sempre il Milan, una squadra che ha qualità in tutti i riparti e noi l'abbiamo affrontata secondo me bene, abbiamo fatto gol, abbiamo fatto anche due occasioni per fare gol, però nel momento in cui sbagli contro le squadre di questo tipo poi paghi, loro sono stati bravi secondo me nel primo tempo ad approfittare che avevano il vento a favore, che poi lì qualche palla, qualche cross che forse in una situazione normale non ti creava problemi ma oggi era molto difficile per il vento e quindi loro sono arrivati in porta tramite cross e poi hanno trovato il rigore, hanno fatto gol e hanno raddoppiato. Quindi lì è stato secondo me un po' l'ago della bilancia perché poi i gol vanno fatti, se non fai gol poi diventa difficile fare punti. Secondo me nel secondo tempo dovevamo dare più intensità e alla fine abbiamo avuto la palla a gol con Faragò che a volte entra a volte no, oggi non è entrata, è un peccato perché secondo me ci stava al pari. Quindi dobbiamo imparare secondo me degli errori nostri perché abbiamo fatto due errori grossi oggi che è stato Varela e è stato anche Pavoletti che sapendo che era diffidato ha preso un cartellino giallo per proteste. Quindi questi secondo me sono errori che non ti puoi permettere perché poi vai ad affrontare il crotone e tu non puoi regalare tre giocatori perché aggiungiamo anche Gio Pedro che è stato un errore nostro. Quindi c'è tre giocatori meno più Sau che sicuramente non ce la farà per l'infortunio. Quindi secondo me quello che dobbiamo migliorare è essere più maturi, essere con la testa concentrati sempre sul campo. E questi errori sono evitabili, quindi lì è il ramarico più grande che lascia questa partita. A prescindere che poi mancano questi giocatori ci saranno altri, quindi questo è importante. Noi dobbiamo andare lì e andare a combattere perché sarà una partita dove dovrai combattere e dovrai cercare di far bene anche quando hai la palla. Per far male e per far punti, questo è fondamentale. Bisogna lavorare bene in settimana e bisogna migliorare questi errori perché non li possiamo regalare né al crotone né a nessuna squadra tra i giocatori. Quindi un po' di questo si tratta. A prescindere dai nomi non dobbiamo commettere questi errori. Poi per il resto dobbiamo far passare oggi che c'è questo risultato negativo ma essere pronti per la battaglia contro il crotone. Sì, sicuramente c'è rammarico per non essere riuscito a portare a casa punti che guardando la partita magari meritavamo anche. Abbiamo avuto occasioni, non siamo riusciti a sfruttarli e dall'altra parte invece non ci hanno perdonato e siamo qua a parlare di una sconfitta. Penso sia quella su Buonaventura perché avevo la visuale un po' occupata e non sono riuscito a vederla partire e quindi poi ero un po' in ritardo anche sul tiro. Sarà una battaglia nel vero e proprio senso, a parola sarà una partita difficile, fisica in cui sicuramente dovremo tenere alta la concentrazione per tutti i 95 minuti e dovremo riuscire a portare a casa punti assolutamente in tutte le maniere possibili. È normale che se avessimo fatto il 2-0 staremmo qua secondo me a parlare di un'altra partita. Dispiace perché gli episodi questa sera ci hanno girato le spalle. Però di cose buone anche stasera le abbiamo fatte, ripartiamo da quelle per far sì che la prossima partita possiamo comunque raccogliere qualche punto. Ma il Cagliari vuole fare sempre risultati, è normale che andiamo a Crotone che mancheranno dei giocatori importanti. Però il Cagliari è sempre ragionato da gruppo, mai da singolo. Per questo penso che chi scenderà in campo farà di tutto per non farli rimpiangere. Grazie a tutti.